Un'operazione di routine per la perdita di peso si è trasformata in tragedia per Emanuele Giovannini, 38 anni, di Tortoreto, che è morto all'ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebene Fratelli. I familiari, affidandosi a Studio 3A e all'avvocato Vincenzo Cortellessa, hanno presentato un esposto alla Procura di Benevento, che ha aperto un procedimento penale per indagare sull'ipotesi di omicidio colposo in ambito sanitario. Il Pubblico Ministero, Chiara Maria Marcaccio, ha iscritto nel registro degli indagati tre medici dell'Unità Operativa Complessa di Chirurgia, un atto necessario per consentire loro di nominare eventuali consulenti di parte per gli accertamenti richiesti dal magistrato. Si è inoltre disposta un'atopsia sulla salma di Giovannini per chiarire le cause del decesso. Tra i consulenti tecnici d'ufficio, nominati per le operazioni peritali, figura il medico legale, il dottor Luca Scognamiglio, come consulente per la parte offesa, messo a disposizione da Studio 3A Valore S.P.A. I familiari di Giovannini, devastati dal dolore, cercano giustizia per comprendere appieno quanto accaduto. La vittima era stata ricoverata per una conversione open di un bypass digiuno ileale, precedentemente eseguito nella 2008. L'intervento sembrava essersi svolto con successo, ma il 18 febbraio è stato riportato d'urgenza in sala operatoria, dove purtroppo è deceduto. Sconvolti e non ricevendo risposte chiare, a loro dire, da parte del personale sanitario, i familiari hanno deciso di agire. Hanno presentato perciò una denuncia ai carabinieri di Giulianova, chiedendo un'indagine per accertare le cause della morte e le eventuali responsabilità del personale medico. La procura di Benevento ha prontamente risposto, aprendo un fascicolo e avviando le prime fasi dell'inchiesta. In attesa di risposte, i familiari di Giovannini e lo studio 3A si augurano che l'inchiesta faccia luce sulla tragedia e porti a una forma di giustizia per il loro caro.